Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale originale, cliccate anche sulla campanella, date un'occhiata agli altri contenuti, vi ricordo anche di mettere un like e di commentare il video. Al prossimo doppiaggio, ciao! Torna qui l'urido non credente, la mancanza di fede nel nostro signore non sarà tollerata! Ma che cosa? Ciao veterano, sono i slevati! Ehi ma... Gesù! Ma cosa? Fine della corsa veterano! Sarai un'ottima offerta per il nostro Dio Re! Dio Re? Cos'è una nuova trovata per i nerd? Blasfemia! Blasfemia! Uh uh, posso spararli io? Voglio che il Re sia fiero di me! Fai pure tesoro, sarà il tuo regalo di compleanno! Grazie Orsetto! Oh perdiana, sparatemi! È quella l'idea! Fermi! Mio signore! Giocatore, grazie agli dèi, Rose e Bidei sono impazziti! Aspetta, hai qualcosa di diverso! Ti sei accorciato la barba? Cosa? No! E comunque c'è solamente un Dio! Vale a dire me! Che cos'è questa sensazione? È un dono dalla nostra divinità! Eh, non proprio! Assomeglia più alla morte! Oh! No! Oramai non ho più bisogno di voi due! Ha 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 ha! Grazie, Coso! Quei due fanatici volevano fermi a una qualche divinità! Davvero non sei cosciente di quello che sta succedendo? Direi proprio di no! Non importa! Presto tutto ti sarà chiarito! Quindi me lo dirai tu? Un riassuntino o qualcosa? Eh, va bene! Palla di fuoco! Palla di fuoco! Tre, cinque, quattro, vieni qua! Riscaldiamo l'ambiente! Bau, bau, sono un gatto! Ehi, ciao, Coso! Devo, devo riprendere fiato! Oggi è di certo molto impegnativo! Impegnativo? È un mappazzone! Con tutte queste mod non riesco più a capire chi sia l'impostore! Beh, mi pare chiaro lo scopo di Among Us è trovarlo! Non è quello che intendo! Coso, senti? So che sei triste perché non riesci a vincere neanche usando queste potenti mod! Davvero potenti! Ben detto, capitano! Anche usando queste mod davvero potenti! Non riguarda il fatto di essere un perdente! Voglio dire che oramai non sembra più neanche Among Us! Da cosa lo deduci? Addio, Stoner! Guarda, è meglio lasciar perdere! Giocatore, quando mi sento un perdente, cosa che non sono poiché sono fantastico, chiedo consiglio a tutte le divinità che esistono! E come mi dovrebbe aiutare? E va bene, come non detto! So solo che io ho sempre vinto e tu hai sempre perso! Comunque sia, ci vediamo! Ma che cosa? Modalità espulsione automatica! Nessun voto richiesto! Cosa? Ma è troppo potente! Davvero potente! No! E va bene, questa volta ne ho avuto abbastanza di Among Us! Dico sempre che riuscirò a vincere, che sarà la volta buona! Lo dico tutte le volte e perdo sempre! Statisticamente è impossibile! Niente è impossibile! Cosa? Chi ha parlato? Io sono il dio di Among Us! Cos'è una specie di sogno? Il dio di Among Us sarebbe un bradipo? Beh, in effetti ha senso! Io ti ho notato, giocatore! Sono qui per aiutarti! In che senso? In che modo puoi aiutarmi? Facendomi realizzare che il potenziale per vincere l'ho sempre avuto con me! No! Io ti darò una moto! Oh, stupendo! Sono pronto! Dammela e basta! Sì, fantastico! Io sono un dio! Da un grande potere derivano... Sì, sì, l'ho già sentita questa! Oh, cavoli! Finalmente riuscirò a vincere! Usa quel potere solo... Ah, 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 ok! Ascolta, grazie ancora! Ma ho una vittoria che mi aspetta! Palla di fuoco! Palla di fuoco! Mettiamoci al lavoro! Ehi, giocatore! Non pensavo fossi qui! Carino il cappello dorato! Vuol dire che adesso hai accolto le mod? Certamente, capitano! Adesso guarda cosa riesco a fare! Te! Vediamo cos'altro posso fare! Aspetta, ma cosa? Eh, non di nuova! Wow! Come dio degli impostori! Posso fare quello che voglio! Incluso! Resta ferma, cara! Se non ci muoviamo non ci può vedere! Non sto facendo nessun movimento! Che cosa vuoi farci? Beh, io inizierei con un mio tocco personale! Il mio palloncino! Il mio padrone! Come possiamo servirti, o nostra divinità? Sì! Grazie a questi poteri, ora possiedo due servitori! Posso già pregustare la mia vittoria! Bene! Ho ucciso capitano, dam e stoner! Mancano solo veterano e il signor formaggio! Devo essere cauto! Voi due! Sì, padrone! Prendete queste e assicuratemi la vittoria! Lei non perderà mai più! Lunga vita, giocatore! Sì! Sì! Avrei dovuto... ...installare la mod maratoneta! Torna qui, lurido non credente! La mancanza di fede nel nostro signore non sarà tollerata! Ma cosa? Ed ecco come, diventando Dio, ho vinto la mia prima partita! Ti è tutto chiaro, veterano? Beh, almeno è qualcosa! Cosa vuoi dire? Mi piace di più la parte col Dio Bradipo! Del tutto inaspettata! Comunque sia ben fatto, giocatore! È tempo che tu finca! Davvero? Sta succedendo davvero? Già! Sapevo che ce l'avresti fatta! Su via, trasformami in un omino dorato e celebriamo! Beh, d'accordo! Grazie amico! Significa molto! Ma cosa? Non funziona se qualcuno ti guarda? Se vuoi posso voltarmi? No, non è per quello! Qualcosa non va! Ah, imbarazzante! Che cosa? Mi sono reso conto solo adesso di avere un pulsante per uccidere! Cos'è che ti aveva detto quel Dio Bradipo? Ecco... Usa quel potere solo... Ah 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 ah, ok! Ascolta, grazie ancora, ma ho una vittoria che mi aspetta! Per l'equipaggio! Avrei dovuto usare questo potere per far vincere l'equipaggio! E invece... Gli ho uccisi tutti! Già, così sembra! Oh cavolo, non riuscirò mai a vincere! Già! Gli ho uccisi tutti!